Mi hanno detto che dovremmo darle una per una i fiori, o quanto ho capito male, ho capito bene, dovrei dare un fiori a ciascuna, se non mi sente, è un po' una cosa, un po' così improvvisata naturalmente, e così diremo una per una a nome. Calcatro Sandra Bruzzone Cristina Mi, mi veramente non è vero, è vero, è vero, è vero. Con la pietra Barbara Chiesa Cristina Dova Barbara Farina Angela Farina Laura Grazie mille 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Dove vuoi la foto? Lì? Allora vai sopra, vai sopra a farla. Vai sopra a farla qualcuno. Va bene, ma sei uno. Dimmi perché poi non fa il prezzo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.